Dal 1973 ci occupiamo di sistemi di fissaggio, utensili manuali e tutto quello che riguarda piccole macchine per unire e deformare la lamiera. I nostri principali settori sono l'industria, il settore metallo, il settore delle rivendite, le ferramenta e tutto quello che riguarda il settore del tetto, delle coperture metalliche, infissi in alluminio e coperturisti. E proprio qui al Made Expo presentiamo tutta quella che è la gamma degli utensili manuali che servono proprio nel campo della lattoneria, degli infissi e delle coperture metalliche. La novità si chiama RIV ST80, trattasi di una saldatrice a scarica di condensatori dove viene posizionato un perno filettato che può essere in ferro, in inox o in alluminio su una pinza particolare o su una pistola e con una scarica di corrente avviene una fusione direttamente sul materiale. Abbiamo così un unico corpo dove poter poi fare tutti gli ancoraggi del caso. Questi perni hanno misure che variano dall'M3 fino all'M8.